eccoci e bentornati sul mio canale partiamo questa mattina con una breaking news veramente incredibile che arriva da un post di twitter di un ragazzo che è entrato in possesso di informazioni veramente molto ma molto importanti in questi giorni vi ho parlato della versione stand alone di call of duty modern warfare remastered quindi la versione singola del titolo staccata da call of duty infinite warfare bene questo ragazzo è entrato in possesso di informazioni veramente molto importanti in merito appunto alla versione stand alone di modern warfare remastered praticamente gamestop versione americana a quanto pare ha già il titolo nel suo stock state vedendo appunto la versione fisica del titolo su ps4 a quanto pare code 4 remastered è stato confermato al 100% in versione stand alone e arriverà il prossimo 26 di giugno quindi lunedì prossimo questa cosa sembrerebbe essere stata confermata appunto da rivenditore americano gamestop la cosa molto interessante ma allo stesso tempo molto particolare è che activision e raven software ancora non hanno annunciato niente di ufficiale staremo a vedere nei prossimi giorni e come si evolverà questa notizia nel fine settimana qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video